L'alleanza con Calenda mette a rischio l'allargamento a sinistra. Nel pomeriggio Letta incontra i leader di Verdi e Sinistra Italiana, che sono perplessi per i contenuti dell'intesa raggiunta dal segretario del PD con azione. A Fratoiani e Bonelli strizza l'occhio anche Conte, che per scegliere candidati dovrà passare dalle parlamentarie online. Giorgia Meloni rivendica il suo atlantismo e rispedisce agmittente i timori per una vittoria del centrodestra. Vogliamo confrontarci sui programmi e non sull'antifascismo. Da sinistra una caccia alle streghe tipica di chi si sente debole. Nel centrodestra oggi nuovo incontro per risolvere il delicato puzzle dei collegi con un tavolo parallelo a quello sul programma. Nelsi Pelosi ha concluso la sua visita a Lampo a Taipei garantendo il sostegno dell'amministrazione USA, la politica e l'economia dell'isola. Una visita che ha fatto infuriare la Cina che ha dato il via ad operazioni militari attorno a Taiwan che allarmano il Giappone e ha bloccato poi l'export di sabbia naturale indispensabile per la fabbricazione di microchip di cui Taiwan è tra i leader mondiali. Mosca conferma che la Russia è pronta a una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina, come annunciato dall'ex cancelliere tedesco Schröder che ha incontrato Putin. Siamo pronti ma alle nostre condizioni, ha puntualizzato Peskov. Intanto dopo l'ispezione a Istanbul è in viaggio verso il Libano il mercantile che trasporta il primo grano partito dall'Ucraina dall'inizio della guerra. Dopo aver accompagnato Elena malata terminale di cancro al suicidio assistito in Svizzera Marco Cappato si è autodenunciato questa mattina ai carabinieri di Milano rischia 12 anni di carcere ma si dice pronto ad aiutare ancora a chi lo vorrà e abbattersi per il riconoscimento del diritto all'aiuto al suicidio anche per coloro che non sono tenuti in vita da trattamenti di sostegno. Una buona giornata dal telegiornale della SET una giornata importante con il countdown che ci porterà al voto le forze politiche che devono da una parte definire il perimetro delle alleanze e del caso del centrosinistra un puntello importante arrivato dalla giornata di ieri per quel che riguarda il centrodestra invece si è un passo avanti con naturalmente il lavoro per definire i programmi dunque le agende e le priorità ma anche il nodo dei nomi delle poltrone in caso di vittoria da assegnare la Moeloni che bolla come sicuramente non vincente l'accordo che riguarda il centrosinistra a cui arriveremo e rivendica la necessità in questa fase delicata per i paesi di preparare di programmi e non di antifascismo noi siamo i conservatori europei una famiglia storica della UE gli attacchi non fanno un danno soltanto a me ma all'Italia che viene sempre trattata come una nazione anomala da mettere sotto tutela Giorgia Meloni rivendica il suo atlantismo e rispedisce al mittente i timori per una vittoria del centrodestra vogliamo confrontarci sui programmi e non sulle polemiche sull'antifascismo definita un'abitudine della sinistra che si sente debole intanto sempre nel centrodestra è fissato per oggi pomeriggio un nuovo appuntamento per le liste con un tavolo parallelo a quello sul programma mentre c'è accordo pieno sulle due riforme che faranno da perno alla prossima legislatura sia a guida centrodestra ossia autonomia e presidenzialismo sui collegi uninominali inizia a esserci qualche piccolo intoppo dai partiti minori della coalizione qualche malumore soprattutto dall'UDC che però alla fine potrebbe correre inglobata dentro Forza Italia ci sarà un incontro con i tecnici per studiare i nuovi collegi nel pomeriggio comincerà il confronto tra le forze politiche dice Lupi di noi con l'Italia situazione che dovrebbe essere sbloccata da quello che la russa definisce un atto di generosità di Fratelli d'Italia che concederebbe loro alcuni dei collegi più sicuri oltre ai tavoli però c'è la campagna elettorale fatta dai comizi Salvini continua a chiedere agli alleati di presentare prima la lista dei ministri nessun dubbio invece sul posizionamento internazionale vero tallone d'Achille del carroccio e quindi della coalizione rimaniamo dalla parte dei paesi liberi, democratici, occidentali io lavoro e lavorerò perché le guerre finiscano il prima possibile o non comincino proprio in queste ore ci sono fibrillazioni in Kosovo e a Taiwan con tutti i problemi che abbiamo chiedo buonsenso, prudenza e cautela dice Salvini in campo è tornato anche Silvio Berlusconi con dei video messaggi Unione Europea e Occidente scelte definitive e assolute dice il leader azzurro se vincerà la sinistra avremo un'Italia con più tasse e più veti aggiunge di seguito anche l'annuncio del ritorno del ministero per gli italiani nel mondo in una sorta di operazione nostalgia sempre nell'ambito del centrodestra sempre più vicino e rientro in coalizione della componente di Toti l'alternativa sarebbe una corsa di mera testimonianza dice Guagliariello di Italia al centro fuori dalle coalizioni invece apporre il tema della raccolta firme Paragone Italexit che visto il suo passato qualche consenso al centrodestra potrebbe eroderlo raccogliere le firme ad agosto significa eliminare le forze antisistema intervenga Mattarella o ci vediamo in piazza la minaccia e sono tante prevedibili le scosse di assestamento dopo l'annuncio di ieri travagliato l'accordo tra Letta e Calenda Calenda ha definito un magnete per i voti del centrodestra ma il segretario Dem punta ad allargare ancora il campo non senza contraccolpi naturalmente e senza dubbio in un contesto che si va sempre più polarizzando Il giorno dopo l'accordo per un centro-sinistra allargato le reazioni e gli effetti collaterali Calenda saprà fare da magnete per i voti di centrodestra dice Enrico Letta da oggi è chiaro che siamo in campo per vincere la dinamica sarà positiva il leader di azione celebra il tandem ben assortito io sarò a capo dello schieramento liberale e popolare commenta Calenda ed è ricco dello schieramento democratico e progressista il patto nel solco del governo uscente però ha come prima conseguenza uno smuttamento a sinistra se qualcuno pensa che l'agenda programmatica della coalizione sia l'agenda Draghi non ci sarà l'alleanza con noi la premessa di Nicola Fratoianni che all'esecutivo dell'ex banchiere non ha infatti mai votato la fiducia sul piede di guerra con lui anche Angelo Bonelli se quel patto siglato ieri non è modificabile c'è un problema grandissimo anticipa Coffee Break, il leader dei Verdi non mi faccio chiamare frattaglia da uno dei parioli leggi Calenda che da parte sua rinuncerebbe altrettanto volentieri ai due segretari verso i quali sono rivolti invece i tentativi di seduzione del Movimento 5 Stelle aperti al dialogo, molti temi in comune la mano tesa di Giuseppe Conte Fratoianni e Bonelli incontreranno Enrico Letta nel pomeriggio ma intanto rifiutano con sdegno il cosiddetto diritto di tribuna offerto dal Partito Democratico ai leader dell'alleanza le cui forze politiche rischiano di non superare il 3% di sbarramento esclusi dai collegi uninominali in base all'accordo Letta Calenda potranno essere candidati nel listone del PD democratici e progressisti avrebbe invece accettato con coda di polemiche Luigi Di Maio il cui giovanissimo partito impegno civico viene stimato ben sotto il minimo necessario contro l'ex amico e compagno di battaglie si scaglia Alessandro Di Battista Luigi Di Maio non ha un voto, scrive su Facebook l'ex parlamentare 5 Stelle chi conosce il fanciullo di oggi lo evita trasformista, disposto a tutto, a rivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi Di Battista appena rientrato in Italia non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura con il Movimento e proprio di questo avrebbe parlato ieri in una telefonata con Conte secondo l'agenzia di Ennecronos il leader ha le mani legate dallo statuto nella compilazione delle liste che dovrà innanzitutto tener conto delle parlamentarie online con i puristi che lo vincolano al rispetto dell'ortodossia fra questi ci sarebbe l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi membro del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle contraria in particolare alla deroga al principio di territorialità ci si può candidare solo dove sia la residenza e all'ipotesi di capilista blindati dalla volontà del leader Allora andiamo avanti il fronte internazionale che ci riporta al viaggio lampo della speaker della Camera americana Pelosi non naturalmente scevro di conseguenze che sono pesanti ed evidenti anche in queste ore toni altissimi e durissimi tra Stati Uniti e Cina le operazioni militari intorno all'isola e soprattutto da parte di Russia e Corea del Nord la necessità di schierarsi proprio con la Cina in questo frangente Nancy Pelosi ha appena lasciato Taiwan la speaker della Camera USA è volata via da Taipei alle 18 mezzogiorno in Italia a bordo del Boeing dell'Air Force si chiude così la breve visita di quasi 20 ore durante la quale ha incontrato la presidente Tsai Ing-wen e ha mandato su tutte le furie la Cina per diverse settimane la tappa di Taiwan era rimasta in forza nel percorso di viaggio in Asia di Pelosi la stessa Casa Bianca e il presidente Biden in persona avevano espresso serie perplessità sulla visita mentre a Oriente la preoccupazione cresceva e Pechino mostrava irritazione anche solo all'idea sull'isola contesa orgogliosa della sua indipendenza ma reclamata dalla Cina come suo territorio Pelosi ha parlato di sostegno degli USA la politica e l'economia di Taiwan la nostra determinazione per la democrazia è ferrea ha detto Pelosi e la presidente Tsai Lefeco non arretreremo davanti alle minacce di Pechino grazie per il sostegno di principio per legami bilaterali più stretti fondati sui nostri valori condivisi di democrazia, libertà e rispetto per i diritti umani ha aggiunto la presidente di Taiwan la Cina si è infuriata e ha subito parlato di provocazione e così come reazione hanno preso il via le operazioni militari cinesi attorno ai Taiwan definite da Pechino necessarie e legittime operazioni che proseguiranno almeno fino a domenica per Taiwan le manovre militari della Cina violano le regole dell'ONU e il Giappone si dice molto preoccupato nel frattempo Pechino ha bloccato l'export verso Taipei di sabbia naturale indispensabile per la fabbricazione di microchip di cui Taiwan è tra i leader mondiali al fianco della Cina si schierano la Russia e la Corea del Nord che accusano gli USA di portare tensioni e guerra in tutto il mondo per il portavoce del Cremlino Dimitri Pescov il livello di tensione provocato nella regione dalla presenza della presidente della Camera americana non può essere sottovalutato ma al contempo invita a non usare parole leggere su una minaccia di guerra globale provocata dalla visita di Pelosi e mentre lo scambio di provocazioni tra Cina e USA raggiunge un gradino più alto di tensione e gli alleati si riposizionano la speaker è diretta ora verso Seoul in Corea del Sud prossima tappa del suo tour in Asia Gran parte delle preoccupazioni poi arrivano da quell'area di mondo interessata da un conflitto da più di 5 mesi e naturalmente l'Ucraina vittima dell'invasione da parte della Russia con un fronte che è quello del campo e un altro che riguarda lo spostamento e lo sblocco di grano da Kiev si sono concluse le ispezioni a bordo della nave Razzoni il cargo arrivato a Istanbul ieri sera trasporta 26.000 tonnellate di cereali ed è la prima imbarcazione a lasciare Odessa grazie agli accordi del 22 luglio che permettono l'esportazione di grano e prodotti alimentari dai porti ucraini una volta ancorato nel Bosforo a largo del Mar Nero i rappresentanti di Turchia, Russia, Ucraina e Nazioni Unite hanno verificato l'eventuale presenza di armi a bordo secondo il ministero della difesa turco la nave battente bandiera della Sierra Leone può salpare verso la sua destinazione finale Tripoli in Libano ma nel porto di Odessa rimangono ancora bloccate 68 navi il ministro delle infrastrutture ucraino Alexander Kubakov in un'intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che di queste 17 sono già cariche e 10 con il grano possono salpare subito tra le navi secondo Kubakov ci sarebbe registrata anche un'imbarcazione italiana carica di olio di semi diretta verso il nostro porto se da una parte la crisi del grano sembra per ora essersi sbloccata dall'altra resta aperta la questione del gas con il braccio di ferro tra l'Europa e Mosca stamani il cancelliere tedesco Olaf Scholz visitando lo stabilimento Siemens in Renanien-Westfalia ha accusato Mosca di bloccare l'invio di una turbina necessaria per mantenere il flusso di gas attraverso il Nord Stream 1 verso l'Europa non c'è ragione per la quale questa spedizione non possa avvenire Mosca deve solo dire di volerla e fornire le necessarie informazioni doganali per il trasporto in Russia ha sottolineato Scholz intanto sul fronte della diplomazia arriva la conferma del portavoce del cremelino Dimitri Peskov nell'ultimo incontro tenutosi la settimana scorsa tra Vladimir Putin e l'ex cancelliere tedesco Gerard Schroeder il presidente russo si è detto disponibile a risolvere la questione ucraina attraverso la diplomazia ma solo secondo le condizioni di Mosca Nel frattempo il quadro economico è complicato sotto diversi aspetti peraltro già stravolto dagli anni di pandemia e dunque vediamo secondo gli ultimi numeri diffusi dall'Istat come stanno cambiando anche le necessità e le abitudini degli italiani Gli italiani stringono la cinghia e visto l'aumento generalizzato dei prezzi sono costretti a ridimensionare gli acquisti e a cambiare i consumi e questo è il quadro che emerge dalla diffusione dei dati Istat sulle vendite al dettaglio registrate a giugno le vendite rispetto a maggio sono diminuite di poco più di un punto percentuale in valore e dell'1,8% in volume rispetto all'anno passato sono cresciute di circa un punto e mezzo in valore ma scese del 3,8% in volume tradotti nella vita reale i numeri ci dicono che gli italiani spendono di più a causa dell'aumento dei prezzi dei beni alimentari e non ma mettono sempre meno prodotti nelle buste della spesa una tendenza iniziata già a gennaio è confermata anche nel secondo trimestre dell'anno a trainare il valore delle vendite soprattutto la grande distribuzione in particolare i beni alimentari ma il volume la quantità è in calo a scendere non è solo la domanda dei beni ma anche quella dei servizi del cosiddetto settore terziario secondo Standard & Poor's agenzia di rating americana l'indice PMI di questa attività in Italia ha registrato a luglio per la prima volta da gennaio una diminuzione della domanda è sceso da 51 a 48 e mezzo ai minimi da 17 mesi una situazione che non riguarda solo il nostro paese anche in Europa l'aumento vertiginoso dei prezzi sta modificando i comportamenti dei consumatori nei 19 paesi dell'eurozona le vendite sempre a giugno sono calate dell'1,2% su base mensile e del 3,7% su base annua la causa è ormai nota ad aumentare il costo della vita sono i prezzi alle stelle delle materie prime e soprattutto di quelle energetiche gas e petrolio per intenderci in Europa dice l'Eurostat i prezzi della produzione industriale nel settore energia sono cresciuti a giugno rispetto all'anno passato del 92,8% un salto che a cascata ricade sui prezzi della produzione industriale cresciuti in un solo mese di un punto e su base annua di quasi il 40% conseguenze del conflitto sono molte peraltro parliamo spesso dei profughi in continua fuga dall'Ucraina ma resta un altro flusso quello del Mediterraneo che improvvisamente vista la campagna elettorale è tornata anche in cima all'agenda di molte forze politiche flussi che continuano salvataggi che continuano e soprattutto una mancanza di condivisione a livello europeo che resta evidente è un appello urgente all'Unione Europea quello lanciato oggi da SOS Mediterranei Medici Senza Frontiere Sea Watch tre organizzazioni umanitarie che pattugliano il Mediterraneo nel tentativo disperato di salvare migranti in difficoltà occorre subito l'avvio di un'attività di ricerca e soccorso gestita a livello europeo nel Mediterraneo centrale per prevenire ulteriori morti si legge nel comunicato diffuso a firma congiunta dalle tre ONG che poi elenca i numeri di una questione quella dei tentativi di approdio in Europa che nelle ultime settimane si è fatta di nuovo pressante e drammatica decine anzi centinaia le imbarcazioni che partono dalla Libia in cerca di un approdio in Europa soltanto negli ultimi cinque giorni sono stati sedici gli interventi effettuati dalle organizzazioni umanitarie ma molte sono anche le piccole navi che boccano i controlli e arrivano direttamente sulle coste della Sicilia i flussi nel 2022 sono in netto aumento rispetto agli anni passati secondo gli ultimi dati diffusi dal Viminale rispetto allo stesso periodo di due anni fa gli arrivi sono praticamente triplicati con ovvie ripercussioni sul sistema di accoglienza dall'inizio dell'anno sono già 42.000 a farne le spese in questa fase soprattutto il centro di Lampedusa capace di accogliere fino a 350 migranti ma dove attualmente sono ospitate più di 1650 persone dopo gli ultimi sbarchi della scorsa notte nel pomeriggio cominceranno i trasferimenti verso altre destinazioni ma la questione causa condizioni meteorologiche che favoriscono i tentativi di traversata è destinata a ripetersi e in ogni caso il saldo tra arrivi e partenze da almeno due settimane non consente di superare l'emergenza la questione va affrontata a livello europeo rilanciano le ONG con la Geo Barenz nave di medici senza frontiere che dopo 11 operazioni di soccorso attende da una settimana che venga assegnato un porto sicuro dove far sbarcare i migranti a bordo ci sono 659 persone aiutateci per favore fateli scendere non ce la fanno più la richiesta dell'ONG attraverso i social network adesso torniamo sulla scelta di Elena quella 69enne che è andata a morire in Svizzera con l'aiuto di Marco Cappato una paziente oncologica irreversibile ha scelto la via più breve invece che l'inferno le conseguenze per Cappato cominciano dalla giornata di oggi noi non siamo qui a chiedere tolleranza che si chiuda un occhio o poi a fare una dichiarazione pubblica e poi invece come dire a minimizzare i fatti noi abbiamo ben sottolineato nella dichiarazione rese che questo aiuto è stato un aiuto indispensabile perché voglio anche ricordare che per una persona che riesce ad andare in Svizzera ce ne sono centinaia che non lo possono fare nella dichiarazione resa ai carabinieri alle forze dell'ordine ho sottolineato che se sarò nelle condizioni di farlo se mi sarà chiesto continuerò a farlo Marco Cappato tesoriere dell'associazione Luca Coscioni rischia fino a 12 anni di carcere per istigazione al suicidio per aver accompagnato Elena malata terminale di cancro in una clinica svizzera per il suicidio assistito è la seconda volta che l'attivista si autodenuncia per questo reato la prima nel 2017 per Fabiano Antoniani DJ Fabo aveva portato a un iter giudiziario che si concluse con l'assoluzione di Cappato e con la sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che ha legittimato il suicidio assistito solo ad alcune condizioni essere capaci di intendere di volere affetti da una patologia irreversibile che provoca gravi sofferenze e sopravvivere grazie a trattamenti di sostegno vitale Elena non era ancora arrivata a dover respirare tramite una macchina il suo caso non rientra nella sentenza una discriminazione tra malati secondo l'associazione il Parlamento avrebbe potuto subentrare in questi anni la Corte Costituzionale lo ha chiesto a più riprese quattro anni fa tre anni fa non c'è stata nessuna risposta da parte del Parlamento della politica dei capi dei grandi partiti di questo paese in queste ultime due legislature parlamentari non è mai stata discussa nemmeno un minuto la nostra legge di iniziativa popolare la prima proposta di legge di iniziativa popolare era stata presentata nove anni fa alla Camera la consulta ha bocciato lo scorso febbraio il quesito referendario sulla legalizzazione dell'eutanasia per cui l'associazione Coscioni aveva raccolto un milione e duecentomila firme adesso torniamo sulle indagini dell'agguato di Pescara con un killer ancora in fuga un uomo morto un altro ferito gravemente condizioni in leggero miglioramento qualche elemento in più nelle mani degli inquirenti dal video che vi mostriamo la videocamera di sorveglianza del bar del parco ha ripreso la scena dell'agguato l'altro ieri sera a Pescara è l'ora dell'aperitivo le vittime sono sedute per un drink ecco il killer che spara si vede la mano spuntare da dietro un cespuglio i due cadono a terra lui casco integrale giubbotto nero guanti e pistole in pugno entra nel bar e spara ancora a distanza ravvicinata mirando alla testa come a dare il colpo di grazia poi rovesce una sedia prende i telefoni cellulari dei due risale sulla moto e se ne va l'azione dura meno di un minuto nel bar c'è il panico fuggi fuggi generale a dare l'allarme a chiamare il 118 una dipendente del bar che si è nascosta sotto un tavolo ma la polizia arriva a cose fatte un'esecuzione in stile mafia come se si trattasse di un regolamento di conti opera di un killer professionista dicono gli investigatori a terra morto Walter Albi 66 anni architetto l'altro Luca Cavallito 49 anni ex calciatore con precedenti penali raggiunto al viso con più colpi rimane ferito e ricoverato in rianimazione in prognosi riservata in terra sono stati trovati otto bossoli il killer è ancora in fuga ricercato si indaga nel giro delle vittime nei loro affari nel loro passato si batte la pista della criminalità organizzata che da tempo ha fatto della costa adriatica terra di conquista per il riciclaggio del denaro sporco calciomarcato dieci giorni al via del campionato trattative pesanti l'affare più importante di queste ore riguarda ancora la Roma di Mourinho la linea Pogba è quella dominante niente operazioni per il francese della Juventus che sceglie la terapia conservativa per il suo ginocchio nemmeno il consulto di ieri a Lione con il professor Sonneri Coté lo stesso del recente intervento a Ibraimovic è riuscito a far cambiare idea a Pogba così come si era espresso l'altro specialista in California è emerso che la soluzione chirurgica è l'unica risolutiva quasi al 100% ma il calciatore ha deciso per le cure spinto in questa direzione dal suo osteopata di fiducia che predilige metodi naturali c'è chi ipotizza il ritorno in campo per l'11 settembre quando la Juve affronterà la Salernitana prima ci sarà anche il debutto della squadra in Champions ha influito il desiderio di Pogba di non perdere il mondiale a novembre ma restano le incognite legate al rischio della recidiva quando affronterà gli impegni agonistici Allegri deve resettare i suoi piani e soprattutto per il debutto in campionato contro il Sassuolo dovrà rinunciare anche a Rabiot squalificato e McKenny infortunato dunque emergenza e la speranza è che arrivi a breve qualche regalo dal mercato continua la caccia a Paredes ma manca l'accordo con il Paris Saint-Germain e torna ad attualità a Kostic per la fascia sinistra per l'attacco a Juventus in cassa e rifiuto di Mertens alla proposta dei 5 milioni in anno niente da fare per motivi sentimentali verso la città di Napoli un'altra idea potrebbe essere Raspadori inserendosi tra le pieghe della trattativa con il Napoli che cerca di chiudere anche per il portiere Ekepa del Chelsea in questo momento il calciatore belga sotto i riflettori e senza dubbio Charles de Ketlar che finalmente ha coronato il suo matrimonio con il Milan e sta entrando nel tessuto rosso-nero è alta l'aspettativa di campione d'Italia per cui dovrà gestire una grande pressione possibile debutto sabato nella Micheola di Vicenza per il lavoro in corso alla Roma si registra l'ennesimo sollecito in stile Murigno il destinatario è l'avvocato Daniele Muscarà probabilmente impegnato nella trattativa per portare Wijnaldum nella capitale e la statuetta di Mu è un promemoria per sbrigarsi la razza è invece prendiato della senza sorpresa di ieri a Formello di Luiz Alberto che vorrebbe accasarsi a Siviglia ma ha richiesto di 30 milioni il Mago Emilinkovic e Savic sono sempre in bilico sul mercato del club di Lotito pubblicità e poi aggiornamenti importanti tra poco allora di nuovo insieme gli ultimi aggiornamenti riguardano ancora la fronte politica una giornata importante nel tentativo da parte del segretario Dem Letta di allargare il campo della centrosinistra ci sono difficoltà però a quanto pare con i Verdi e con la sinistra italiana che ha per il momento rinviato l'incontro con il segretario Letta ha parlato di profondo disagio nel paese in particolare nel complesso dell'elettorato di centrosinistra essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano ulteriore tempo per quel che riguarda il tempo ulteriore servirà crediamo anche per DL Aiuti perché è terminato poco fa l'incontro al MEF con Landini che è uscito poco fa con un commento molto duro non ci siamo le risorse sono sul piano quantitativo del tutto insufficiente e per quel che riguarda il segretario della CGL c'è anche un'aggiunta visto che in CDM non ci si è ancora riuniti chiediamo che vengano affrontati i temi in modo totalmente diverso dunque un capitolo complesso su cui torneremo naturalmente alle 20 col telegiornale e poi vi ricordo a seguire mercoledì e dunque c'è Paolo Celata con la sua trasmissione che ci accompagnerà fino al 25 settembre una buona giornata e buon proseguimento grazie a tutti